In collaborazione con Glamvision e K. Fakli. Seda in crisi. Di prossimo raccolto una boccata d'ossigeno, ma il conflitto mette tutto a rischio. La suora di Segontano che accoglie i profughi ucraini in fuga della guerra. Ciascuno ha nel cuore la sofferenza di ciò che ha visto. La sanità trentina rischia di collassare. È allarme. Sempre più reparti in sofferenza. Al pronto soccorso di Trento, pronti a lasciare quattro professionisti. Covid. Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Trentino. E sono stati trovati 441 positivi. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glamvision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista. E poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su Glamvision.it